Eccoci qua, trinciature stocchi con il 42-45, là abbiamo il 6180 che ripunta, direi Team Massey Ferguson al lavoro Grazie a tutti Quest'anno mangiamo un po' meno polvere, stiamo meglio Siamo tutti al lavoro, oggi abbiamo trappiato il mais Ho rimasto quello là da tracciare, è quasi stato fatto Abbiamo adesso cominciato a dare il ripuntatore Il ripuntatore pieno regime Ecco qua, il giocattolino rosso Col trincio Intanto arriva della roba nel vetro Eccoci qua Questo è il giocattolino rosso Grazie a tutti